Buonasera, io e le mie compagne siamo pronte a andare a stradella contro il Davis, consapevoli che è una squadra molto forte e che saprà sfruttare la sua esperienza, però noi siamo pronte, siamo cariche, stiamo facendo un allenamento improntato su questa partita e vedremo come andrà. Grazie a tutti.